Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del bandito, martedì pomeriggio volevo fare un video su Teo, sulla sua bella prestazione di ieri, sul fatto che ha dimostrato di essere imprendibile, sul fatto che è il mio augurio, lo so se lui vuole andare via, sarà poco da fare, ma il mio augurio è di vederlo ancora in campo con il Milan, da capitano del Milan, con lo stipendio adeguato al suo valore e pronto a partire su quella fascia come solo lui sa fare e non facciamo paragoni per carità che non stanno né in cielo né in terra, malgrado la narrazione e allora oggi sono successe cose, ho visto articoli che rasentano il mistico e quindi come faccio a non parlarne? Perché questo è uno dei problemi maggiori, se sui problemi finanziari il giudizio lo dovranno dare le procure, lo dovranno dare gli organi interessati, insomma vedremo, ma su quello che è la narrazione mediatica, su quello che è oramai una setta mediatica, io credo che anche il più non possa negare, ma andiamo a vedere i fatti. Allora oggi abbiamo appunto la setta mediatica che proprio insieme, come fosse partita, come fosse partito un messaggio nella chat, così, come fosse partito un messaggio nella chat, ci esaltano tutti insieme, Gazzetta, quindi Cheerleader, Dazon, Cheerleader e Sky, Cheerleader, ci esaltano la forza di questo campione di Valenti Carboni. Allora abbiamo Taidelli, Taidelli su la gazzetta Cheerleader, Taidelli, invito per capire dove batte il cuore di Taidelli a vedere il suo profilo Twitter, da lì si capisce dove batte il cuore Taidelli, io non so se sia nella chat Taidelli, però è partito anche lui insieme agli altri e secondo quest'articolo, ragazzi è successo qualcosa di incredibile, per quello non posso esimermi da fare questo video, perché praticamente in una notte Valentin Carboni vale 10 milioni in più, non stupitevi, eravamo rimasti a 30 milioni, valutazione 30 milioni, un gol al Guatemala inamichevole e ora vale 40 milioni, 40 milioni e io credo che se continuerà così, anzi se Bellingham continuerà così con le prestazioni, le ultime prestazioni, insomma la finale di Champions, il gol in apertura di Europeo, io credo che se Bellingham continua così tra poco può sfidare Valentin Carboni, tra poco potrà diciamo essere accostato, non a Ciaplanoglu perché a quello lì, al centrocampista più forte del mondo non ci si può neanche avvicinare, anzi al rigorista più forte del mondo non ci si può neanche avvicinare, ma a Valentin Carboni potrebbe avvicinarsi, ma bisognerebbe chiedere a Taidelli cosa ne pensa, Taidelli tu cosa ne pensi, pensi che con le ultime prestazioni Bellingham si possa avvicinare a Valentin Carboni, però è successo anche un fatto, perché dicevo mistico, un fatto mistico, è successo qualcosa di incredibile, perché pare che durante gli allenamenti della nazionale Argentina una goccia di sudore di Valentin Carboni, una goccia del suo sudore, sia caduta a terra durante un esercizio, ebbene voi non ci crederete, ma lì in quel punto dove la goccia è caduta ha iniziato a sgorgare una fonte, ebbene sì, dove è caduta la goccia di sudore di Valentin Carboni ha iniziato a sgorgare una fonte, e allora Papa Francesco informato del fatto, informato della vicenda, informato sulla situazione, sapete che bisogna, il Vaticano subito deve, quando succedono queste cose, il Vaticano deve subito intervenire, deve subito, e allora pare che Papa Francesco abbia deciso di volare in Argentina per la prima volta, non è mai rientrato in Argentina, pare che abbia deciso di fare questa cosa, di ritornare in Argentina e di benedire, di dare la sua benedizione personale a Valentin Carboni. È chiaro, è inutile, mi sembra ovvio che dopo la benedizione di Papa Francesco il prezzo di Valentin Carboni schizzerà almeno a 100 milioni di euro. Quindi molto molto importante questo episodio mistico, ma c'è dell'altro del mistico in casa sempre oggi, in casa nera azzurra, ed è il buon Stoppini, poteva mancare il buon Stoppini oggi? No, non poteva mancare il buon Stoppini. E allora il buon Stoppini ci dice, attenzione, preparate i fazzoletti ragazzi. C'era un bimbo che non tirava mai, però Stoppini questa potrebbe essere anche confusa, cioè ci potrebbe essere del… vabbè, Stoppini, non tirava mai in porta, aggiungi. C'era un bimbo che non tirava mai e scriveva i sogni su un foglio. Barella oggi trascina l'Italia. Aggiungo io, ora cura gli ammalati, ridà la vista ai ciechi e moltiplica i pani e i pesci. Tornando seri, voi capite che non si può combattere ad armi pari. Perché è tutto così, è tutto così illogico, è tutto così strano, è tutto così fuori dal mondo. E qui sicuramente l'aspetto peggiore di tutti è il mondo mediatico che si presta a queste operazioni, il mondo mediatico che si presta a queste operazioni, ma com'è possibile? Cioè, ma io dico, ma anche il più acceccato dal tifo, anche il più acceccato dal tifo, ma come fa a non farsi due domande? Come fa a non capire? Cioè, perché viene tutto a favore? Allora va bene. E allora dobbiamo tutti essere con l'anello al naso e credere che Valentin Carboni valga 40 milioni, ma se qualcuno dovesse pagare 40 milioni sarebbe un problema ancora più grosso, capite? Perché vuol dire che, insomma, dall'altra parte c'è qualcuno che, insomma, ci siamo capiti, su. Com'è possibile non indignarsi di fronte a questi articoli, di fronte a questi servizi? Ho visto anche quello di Dazon, una roba, una roba, cioè, va bene così? Deve andare bene così a tutti? Deve essere normale che questo qua, questo giovane, questo ragazzino, che è alle prime armi, non ha dimostrato ancora nulla, debba essere dipinto come il nuovo fenomeno del calcio mondiale? Altri giocatori, invece, devono essere... o non se ne parla, o se ne parla male per fare scendere... Ma io dico, ma se questo... lasciamo stare i giocatori del Milan, lasciamo stare Teo, lasciamoli stare. Ma io faccio un esempio su uno di pari più o meno età, di... insomma, ma se questo qua vale 40 milioni, ma su lei che ha fatto 11 gol al Frosinone, quanto può valere? Ha fatto un campionato intero con 11 gol al Frosinone, già è strano che ci sia Carboni alla Coppa America, non ci sia su lei, già è molto strano, e sinceramente già questa è una stranezza. Ma quanto dovrebbe valere su lei? Ma come si può pensare? Cioè, allora il giovane della Spagna che è titolare a 16 anni, quanto dovrebbe valere? Quanto vale? Cioè, come si può credere ad un calcio in cui anche queste cose sono totalmente veicolate, totalmente indotte dagli articoli dei giornali, totalmente gonfiate, il motivo per cui vengono gonfiate lo sappiamo benissimo, lo abbiamo capito benissimo, ma noi che siamo i fruitori del servizio calcio, come possiamo accettare che le cose vadano avanti così? Cioè, noi tifosi del Milan che ci incazziamo, io mi incazzo, ieri ho fatto due video in cui ero veramente giù, perché non vedo una via d'uscita, non la vedo una via d'uscita, non riesco a vedere una via d'uscita. Se il sistema è questo, se i sistemi sono questi, io non la vedo una via d'uscita, sinceramente, malgrado tutto l'ottimismo, malgrado tutto. Ma quando vedo questo pompato in questa maniera, perché chiaramente non sappiamo il motivo, mentre il giocatore che giocava al suo posto evidentemente perché dava più garanzie all'allenatore del Monza, Daniel Maldini, facciamo fatica a farci offrire 5, 6, 7 milioni di Euro, ma può essere normale un calcio così? Può essere normale una roba del genere? Cioè, le valutazioni dei giocatori possono essere così indotte da articoli di Taidelli, di Stoppini, dalle chat. Capite perché non si può andare avanti così. Iscrivetevi a SocialZone360. Mi raccomando, forza Mila sempre!